uè non fare il barbone da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xiodarone bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xiodar e ragazzi le novità non si fanno attendere per quello che riguarda il futuro di fortnite ce ne sono davvero tantissime a partire da tutto quello che stiamo vivendo in questi giorni relativo alle modifiche della mappa e nello specifico alla distruzione di alcune case che purtroppo non torneranno mai più nel video di oggi ragazzi però voglio parlarvi oltre a quello che vi ho scritto nel titolo quindi un bug che non è ancora stato risolto per vincere tutte le ltm del tema possibile della season numero 10 una concatenazione di elementi hanno portato alcuni leakers a tirare delle conclusioni davvero super interessante interessanti e molto probabilmente veritiere relative appunto alla prossima season ma vedremo anche ragazzi alcune novità dell'ormai finito e 3 di los angeles ci sono delle particolarità molto curiose che ci tenevo a farvi vedere per tenervi aggiornati e ovviamente non mancheranno un po di leaks per tenervi liberi croccanti tipo il bacon alla mattina ragazzi però prima voglio ringraziare tutti quelli che mi supportano ogni giorno sciopazzando di prepotenza con il mio codice creator xiu derone grazie di cuore ragazzi per crederci nel canale mi raccomando non dimenticate di iscrivervi e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima è la la domandina raga non mi dite che non vi posso fare la domandina è una domanda davvero super interessante qua ragazzi pensateci bene prima della risposta ma secondo te quale sarà il tema della season 10 voglio sapere la vostra idea se vi siete fatti delle conclusioni se avete delle idee insomma tutto quello che vi passa per la testa qua sotto nei commenti ma quindi ciao alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito a dare un attimo un'occhiata a quello che sta succedendo giorno dopo giorno nella mappa questa immagine la ricorderete senz'altro è successo pochi giorni fa la l'ultima villa di spiagge snob è stata demolita prepotentemente da qualcosa che si pensa si pensa possa essere uscito dal mare e abbia attraversato appunto questa parte di mappa ieri mattina invece attenzione grande scalpore perché la casa moderna di parco pacifico tuttora viene trovata in forma di macerie viene abbattuta sempre da quello che tutti ipotizziamo sia il mostro presente nell'ex picco polare la domanda che tutti ci facciamo è ma questo mostro alla fine che cos'è che forma potrebbe nuotare lo abbiamo visto con il castello sopra la schiena ma potrebbe anche volare perché non ci sono impronte tra la villa di spiagge snob e la casa moderna di parco pacifico che si sia mosso in volo e si è atterrato e se fosse attorrato quanto diamine è grande ragazzi perché è enorme è una roba incredibile tanta tanta roba e tanto hype per quello che epic games sta continuando a portare come side story che in realtà diventerà poi principale e portatrice ovviamente della season numero 10 ma ci agganciamo appunto alla season numero 10 come spesso succede ed è successo anche nelle season precedenti con le modifiche del profilo di twitter di donald mustard il worldwide creative director quindi il direttore creativo generale il capoccione di epic games quando donald mustard vuole lasciarti degli indizi bisogna controllare sempre la modifica della sua posizione in questo caso ragazzi lui mette una roba molto particolare non è una posizione ma è uno stato angry affamato quindi potrebbe voler dire che questo mostro nella mappa possa essere affamato e quindi sia alla ricerca di qualcosa di certo ragazzi dobbiamo aspettarci ancora modifiche sicuramente in queste quattro ultime settimane di season numero 9 che magari ci lasceranno un po intendere che cosa dovremmo affrontare nella prossima season ma tra l'altro donald intanto quali facevo vedere dove era la scritta angry fa anche una mossa molto particolare mette una faccia abbastanza perplessa barra pensierosa su un post ufficiale della cnn voglio farvi vedere il post ufficiale ragazzi che è proprio questo e che dice questo intanto è la foto della luna con lo spettrometro credo cioè quello che rileva il calore se non ricordo male il post tradotto dice qualcosa ha causato un enorme buco gigante sulla luna bilioni di anni fa miliardi di anni fa in poche paio non so se dica miglia bilioni penso che da noi non esista dovrebbe essere miliardi ragazzi e gli astronomi credono che ci sia qualcosa sotto la superficie donald master da come vi stavo anticipando come vi ho fatto vedere mette un segno di un po un dubbio nel post della cnn questo potrebbe magari farci pensare che il tema della season 10 possa essere a tema spaziale ci starebbe ragazzi ne abbiamo viste di tutti i colori in queste season di fortnite e per chiudere l'idea della season 10 vi ricordo che è stata tolta la skin gemini ma è ancora presente il plasma carrot plasma carrot che mentre ve lo mostro in game perché ragazzi è davvero molto carino da vedere ve lo faccio vedere molto velocemente eccolo qua plasma carrot per chi non lo sapesse fa parte di un set della galassia il che vuol dire ragazzi che c'è un altro evidente richiamo allo spazio molto carino come piccone molto particolare olografico se devo essere sincero e sappiamo con stile personalizzato blu e rosso ma un altro elemento che va a favore della tesi della galassia ma andiamo avanti ragazzi ed eccoci arrivati al termine delle tre ragazzi la più bella la più grande la più meravigliosa fiera mondiale dedicata ai videogiochi dove tutte le major sono presenti con novità proposte e anteprime per il futuro ovviamente non manca epic games nel mega stand dedicato in concomitanza anche con il summer block party ragazzi oltre ad aver visto alcune skin giocate alle tre e non rilasciate ancora ufficialmente forse se non lo sapete hanno distribuito di nuovo delle tesserine che regalavano spray unici e 2500 v bucks alle tre ragazzi si è anche visto un po di roba interessante tra cui una è mia questa la voglio cazzo la voglio in camera questa ragazzi una girosfera è mia è mia una girosfera a grandezza naturale provabile ovviamente ti potevi sedere dentro meravigliosa arrivando anche allo storm shield che cos'è ragazzi non è altro che una protezione dal sole una protezione 30 per la precisione che ovviamente si può utilizzare non è assolutamente nociva una bellissima è un bellissimo gadget un bellissimo ricordo fino ad arrivare a gente travestita da banana che si aggirava in maniera abbastanza furtiva e pericolosa insieme a dottor disrespect e faceva streaming dal cesso no ragazzi insomma anche le tre ci ha regalato tante cose interessanti che purtroppo qua noi in italia ci possiamo solamente sognare in quanto non è così diventato un fenomeno di massa come lo è in realtà in tutto il resto del mondo ragazzi io per oggi ve le ho dette tutte vi ricordo anche che tra pochi giorni ci sarà la patch 9.30 ne parleremo meglio nel video di domani vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video mi raccomando un pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo tra poco in live ciao 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 ciao